Se volete acquistare crediti passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVI SPO otterrete il 3% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, belli e brutti amici iscritti più di tutti. Bentornati su Giove H di Spo. Io sono Giove Spo e questa è la serie ormai che conoscete nella maggior parte dei miei iscritti e degli iscritti di FIFA Carlo Fortuna Italia. Ovvero la serie Scontro Tati Tani. Siamo giunti in stagione numero 2, questo è l'episodio numero 5 e in questo episodio andremo ad aggiungere un cioci. Dall'anno scorso episodio mi ho chiesto di scelta tra Honda e Bonsofa. E' stato davvero un pareggio, semplicemente è stato un pareggio. E dunque una scelta dovevo pure fare e ho scelto di aggiungere che è su che Honda. Honda, allora, diciamo un buon trequartissimo secondo me, buon mancino. Ottimo passaggio, dribble, test, diciamo è molto buono secondo me anche fisicamente. E dunque andiamo a scontrarci contro la squadra scelta casualmente di oggi, sperando che Akinferno brilli finalmente. Ed eccola la squadra nostra avversaria. Abbiamo 5, 1, 5 bronzo e un argento. Allora abbiamo Anderson, 2cc e gli altri non li conosco. Quindi non so di chi sono. Però l'intesa è 99 qui. Rondon, Rondon, prende questa palla. Rondon, il tiro di Rondon, in mezzo alle gambe della difesa. Attenzione, Jolay, Jolay. Si gira, si volta nell'area. Jolay, cross. No, no, no. Va, fanculo, Akinferno. Mamma mia. Di testa. E già abbiamo subito il gol. E già abbiamo subito il gol. E stiamo bene, stiamo bene. Così ne subiamo un'altra 40. Dai, Akinferno. Come cazzo fai a non parare? Prendi le farfalle, prendi. Va bene. Però c'è da dire una cosa scherangolata e colpi di testa. Vabbè, dai. Questo te lo perdono, Gimper. Cricito sulla fascia. Cross per Honda. Andergetica. Vai, Rondon. Vai, metti. Ma Troia. Siamo a Jolay. Di nuovo su quella fascia di merda. Grandissimo, Sansonov. Sansonov, la passa in mezzo per Robin. Gol di merda. Gol di merda. Gol di merda. Non ci è subito. Non ci è subito. No, non ci vedete. No, no, no. Gol di merda. Gol di merda. No, no, no. Vai, Akinferno. Mamma mia, lo schifo. Mamma mia, lo schifo. Akinferno. Lo schifo. Non ci credo. Non ha fatto una parata. Non ha fatto. Non ha fatto una parata. Spero che finisca subito sta serie. Akinferno. Mamma mia. Non ha mai avuto un successo di Coresto. No, no. Di nuovo. Vai, Akinferno. Sì, sì. L'hai fatto una parata. No. Beh. No. No. Eh sì, ma quella è colpa di Akinferno. Ogni cosa che è successo. È solo colpa di Akinferno. È solo colpa di Akinferno. È solo colpa di Akinferno. È anche di Krishito. Krishito è colpevole. 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 E io sono il terzo colpevole. Batroia di me. Maledizione. 51esco. Rigore. Dove lo mena. È la para. La para, Akinferno. Dai, cazzo. Akinferno. Vai a cacare. Di nuovo fallo di Krishito. No. Non è. No. Ma l'ha affanculo l'albitro. L'ha affanculo. Ma che caso di fama ho fatto. Dai. Ma l'ha affanculo. Vai. L'ha affanculo l'albitro di merda. Coglione. Bastardo. Di bastardo. Che bastai. Troia di merda. Troia di merda. Troia di quella troia. Akinferno. Mi vai una varata su tre tiri. Mamma mia. Mamma mia. Non ho mai visto. Pur consigli tozze più forti. Di Akinferno. Mamma mia. Che cazzo. E il primo va bene. Era gollato. Il secondo. Quello è stato una merda. E questo. Questo. Più o meno. Vai. Tazla. Tiro. Mamma mia. Traversa. Porca troia. Una cosa buona. La stavano a fare. Vai. No. Troia. Vai Rondon. Tira Rondon. Gol. Diciamo. Regalato. Però cazzo. Ci può stare il pareggio. Ci può stare il pareggio. Cazzo. Ci può stare il pareggio. No. Vai Akinferno. Ma è questa. E questa. Perché non l'hai varata Akinferno. Akinferno. Perché questa non l'hai varata. Cazzo. Cazzo. Non l'hai varata. Cazzo. Cazzo. Non l'hai varata. Cazzo. È finita. È finita. Ma l'hai finita male. Male. Due gol. Anzi. Quattro gol. Subiti da Akinferno. Quindi un giocatore argento. Da aggiungere. Vediamo cosa si può fare. Faccio un attimo una ricerca. Voi rimanete qui. Per favore. Dai. Dai. E cazzarola. Allora. Allora. Potrete scegliere tra. Gian Durica. Del locomotive. Oppure Leandro Fernandez. Del dinamo mosca. Allora. Potete scegliere uno di questi due giocatori argento. Naturalmente commentando qui sotto. Se vi è piaciuto naturalmente il pollice in su. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Qui è Gio Pispoli. Saluta. Vi ringrazio. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao. E bello a tutti.